No, no, è che io, signor Magagna, dobbiamo essere chiare. A me cosa mi cambia fare una scoppiettata di botti tre ore e fare due ore e mezza? A questo punto non le signiamo, facciamo tre ore di botte, ecco, ma sì che partono dalla collina anche, ah sono pericoloso, ma il pericolo fa parte del mestiere, il pericolo fa parte del mestiere, ecco. Qualcosa cosa mi viene, aspetti un attimo. Dottore, ma scusi, hai battuto il chakra, dobbiamo fare lo sport. Va bene, ma non vedete che sono al telefono, io chiedo scusa, io sto partendo con la campiana elettorale, sto organizzando già la festa di San Giovanni del prossimo anno. Con quale titolo organizza la festa di San Giovanni del prossimo anno, scusi, non ho capito. Eh, dottor Magagna, la chiamo più tardi, scusi un attimo. Ma come a quale titolo, Mau? A titolo che io sono sindaco. Ma lei non è ancora sindaco, lei si è candidato, ma scusi, ma capitano, non ricordi pure lei, come fa a diventare sindaco se non fa neanche la campagna elettorale? Devono votarla, dottore. Dottore, noi abbiamo una settimana per fare la scaletta, il programma è in diretta. Ah, è vero, abbiamo l'inaugurazione della campagna elettorale, il primo di agosto, abbiamo scelto anche una data buona. Poi dentro un weekend, sai che la gente rimane subito, no? Eh, va bene, allora questo dobbiamo dire. E' meglio che facciamo prima questo che non il 24 giugno del 2021. Sì, lei è troppo avanti. Qua siamo invece al primo di agosto del 2020. Sì, ha ragione. Senta, poi tra l'altro, io quando parlo ufficialmente, quando faccio rispondere, è possibile che devo sempre avere un basso, qui che rompere le palle le maracche, non possiamo anche, non posso avere io due piano, ho visto lei, lei hai visto, c'ha due piano di ficus, c'ha due figli. Parla dell'ufficio di sindaco. Dietro c'ha il torre, il simbolo di Torino. Non possiamo prendere qua in piazza un vigile, gli diamo 5-6 mila lire che viene qua e si mette. Ma come un vigile? Perché siamo in Messico, gli diamo 5 mila lire e un vigile viene qua. Scusi, non ho capito, non è sindaco, deve fare la campagna elettorale, inviti la gente a venire a Hiroshima che è l'inaugurazione della campagna elettorale. Sono da sola, sono da sola, mezza tanta incompetenza. Ma vi aspettiamo il giorno 1 di agosto, Hiroshima a Monaburro, l'ha aperto con tutta la tranquillità del periodo Covid, per il bellissimo spettacolo Robaforte Estate. Robaforte Estate si chiamerà così, ovvero Robaforte a maniche corte. Serene io, i scambi della frida. Ma era una roba seria questa, una campagna elettorale. Venite numerosi, venite numerosi, il primo agosto di Hiroshima alle 21, che non si può far tardi, puntuale, prenotate che è meglio, prenotate, prenotate, numerose. Ma chi è il dottor Magagna?